segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te tendo a escludere che matteo messina denaro farà uno sciopero di 110 giorni nel caso credo che il tema della vita umana si ponga come si è posto anche quando ci fu la questione della morte in carcere di provenzano che fu risolta e me ne assunsi la responsabilità in un modo che fu quello di proseguire col 41 bis ma non senza dilemmi non senza perplessità non mi meraviglia lo dico con franchezza che travaglio la pensi così diciamo perché penso che ci sia un'idea dell'esecuzione della pena che accomuna destre diverse anche quando casualmente si sono trovati su fronti diversi penso che ci sia un travaglio di destra questo questo sì su questo non me ne voglia travaglio legge le leggi e vuole che siano rispettate lei fa le leggi e poi vuole che siano derogate questa è la differenza fra di noi il 41 bis è stato previsto su una specifica fattispecie che era quella dei boss dell'ucciardone e di poggio reale che ordinavano dall'interno che cosa fare all'esterno tramite i pizzini tutta la stagione precedente quella del terrorismo non prevedeva una segregazione paragonabile a quella del 41 bis perché perché erano organizzazioni che non avevano la stessa capacità di presa sulle carceri non era successa la stessa cosa oggi è difficile pensare che gli anarchici abbiano esattamente la stessa capacità pervasiva e di direzione all'interno del carcere che può avere la mafia dopodiché guardi cospito le indicazioni che ha dato non le ha date con i pizzini le ha date con degli articoli che dall'altra sicurezza gli hanno fatto pubblicare quindi forse si poteva prima intervenire facendo una censura dopodiché io non è che sto chiedendo che cospito vada in un resort sto chiedendo semplicemente di valutare se è lo strumento migliore mischiando tra l'altro politici e mafiosi e creando una serie di cortocircuiti come quelli di cui ha parlato oggi l'onorevole donzelli come ho insistito a dire divulgando informazioni che probabilmente non dovevano essere le rese pubbliche in parlamento ma lei è stato ministro della giustizia in due governi poteva togliere il 41 bis a tutti i terroristi e lasciarlo ai mafiosi ma io che parla adesso perché penso che ci troviamo in situazioni oggettivamente diverse perché penso che la le vecchie le nuove brigate rosse avevano un'organizzazione militare che poteva come dire utilizzare informazioni che veniva dentro dal carcere mi pare ma lo dico soltanto avendo posto il dubbio che l'organizzazione anarchica abbia dei presupposti di un'organizzazione oggettivamente diversa dopodiché allora scusi mi scusi porre una domanda e un supplemento distruttoria significa diventare amici dei terroristi e dei mafiosi questa è la domanda perché questa è la tesi che oggi è stata sostenuta io penso che sia sbagliato impedire una discussione sui mezzi perché penso che ci possa pensare di contrastare le organizzazioni terroristiche e mafiose avendo anche idee parzialmente diverse sul come allora Brunella Bollolli intanto volevo semplicemente dare questa informazione che in serata è stata alzata l'allerta l'attenzione a Roma per annunciate mobilitazioni degli anarchici quindi vedremo che cosa succederà ma